Di caro vita ha parlato ieri il segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo alla festa di Torre Boldone nella Bergamasca. Per Acerbo occorre reintrodurre la scala mobile, cioè l'adeguamento automatico dei salari e delle pensioni all'inflazione. Unico modo, ha concluso il segretario di rifondazione, per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie.